Niente, sono le 23.17 e noi abbiamo trovato l'equazione fondamentale della vagina che è z uguale a seno di x al quadrato più 3y al quadrato fratto 0.1 più r al quadrato più z al quadrato più 5y al quadrato per esponenziale di 1 meno r al quadrato su 2 r uguale a radice di y al quadrato più y al quadrato è proprio l'equazione della vagina è l'equazione della vagina ragazzi altro che Einstein no ma qui si passa la storia